Io sono stato Presidente di Fede Chimica per 12 anni, ho rinnovato 6 contratti di lavoro con tutte le componenti che rappresentano i lavoratori, senza onore di sciopero. Io sono convinto che dal dialogo si possono trovare tante risposte positive, non ritengo che la situazione di scontro sia quella che porti dei vantaggi a nessuna delle parti che si affrontano. Sicuramente i nostri tecnici ci stanno già lavorando, tra l'altro abbiamo il responsabile dell'area delle relazioni industriali, una persona che viene da Varese, quindi Piero Albini se ne occuperà con molta capacità e molta determinazione. La riforma del mercato del lavoro, onestamente come imprenditore, come ho detto prima, che crede nel dialogo, mi aspettavo qualcosa di più, però c'è anche da dire che non abbiamo ancora una formulazione definitiva del testo, in quanto quella definitiva sarà quella che uscirà dal Parlamento, vediamo, commenteremo o vedremo alla fine.